Buonasera telespettatori di Nettuno TV, benvenuto anche a chi ci segue in streaming su NettunoTV.tv la seconda edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la crona che ha arrestato ieri pomeriggio un uomo italiano di 44 anni per atti contrari alla pubblica decenza. Andiamo a sentire tutti i dettagli nella servizia di Mario Giulianti. È stato arrestato ieri pomeriggio dalla compagnia dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto un uomo italiano che già in diverse occasioni si è reso responsabile di atti sessuali in pubblico in luoghi frequentati da bambini. Il soggetto, che non ha mai avuto contatti con i bambini, era solito toccarsi alla loro presenza. Il maniaco aveva già colpito nelle zone di Baricella, Cento e Calderara di Reno. Stando a quanto riportato dai carabinieri, il modus operandi dell'uomo, operaio italiano di 44 anni ed incensurato, prevedeva l'avvicinarsi vicino istituti scolastici o giardini pubblici e dalla presenza di bambini si avvicinava ed iniziava a toccarsi. Nei suoi confronti, stando sempre a quanto riferito agli agenti, vi erano state segnalate già diversi episodi, più di una decina, e la prima denuncia nei confronti dell'uomo era partita circa un anno fa. I carabinieri, in collaborazione con la Polizia di Stato di San Giovanni in Persiceto e con l'ausilio di alcuni agenti in Borghese, a seguito di una lunga indagine lo hanno arrestato ieri in flagranza a Calderara di Reno, dove è stato registrato l'ultimo episodio. Le denunce presentate sono partite da alcuni genitori, da una maestra delle scuole elementari. L'uomo è stato arrestato per atti contrari alla pubblica decenza con l'aggravante della presenza di minori ed è stato condotto nel carcere Dozza. Ancora a cronaca, denunciato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione, arrestato invece dai carabinieri un gambiano, sempre per lo stesso motivo per detenzione ai fini di spaccio e una denuncia invece sempre da parte degli uomini dell'arma ad una donna per maltrattamenti in famiglia. Questi alcuni fatti accaduti ma sentiamo i dettagli nel servizio di Mario Giulianti. A seguito di un controllo da parte della Polizia, ieri sera intorno alle ore 22.30 in via Matteotti, la volante ha notato un soggetto che si aggirava destando sospetti. Gli agenti per una maggiore sicurezza hanno deciso di fermarlo e controllarlo. Durante la perquisizione addosso all'uomo sono stati trovati 10 grammi di hashish ed un telefono cellulare di dubbia provenienza, con apposito codice di blocco, che il malvivente non sapeva neanche sbloccare. Lui, un marocchino di 28 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per ricettazione. I carabinieri di Bologna hanno arrestato durante un controllo un gambiano classe 1999 pregiudicato per possesso di stupefacenti. Il soggetto, che si trovava in via della manifattura in zona Stalingrado, è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish. Insieme agli stupefacenti sono stati trovati anche 90 euro. Il soggetto è stato arrestato e processato per direttissima. Cambiamo argomento e parliamo di maltrattamenti in famiglia perché i carabinieri hanno denunciato a Malalbergo una signora classe 1950 per maltrattamenti in famiglia e abbandono di incapace. Nello specifico, a subire maltrattamenti della donna pensionata, era il marito, un uomo classe 1946 con gravi problemi di disabilità. Gli agenti, allertati sia dai vicini di casa che da alcuni familiari della vittima, sono intervenuti ed hanno denunciato la donna. Cambiamo pagina. Si è svolto questa mattina in Piazza Maggiore l'evento di presentazione di una campagna sulla mobilità sostenibile promossa da AERA. TIPER e Cotabo è un focus sull'utilizzo da parte di alcuni bus e taxi del biometano prodotto dal gruppo AERA ricavato tra l'altro dall'arcolta differenziata. Andiamo a sentire le parole di Cristian Fabri, la direttore della centrale a mercato AERA. Parliamo di un esempio concreto di economia circolare. Noi tutti come cittadini facciamo la raccolta differenziata, o almeno dovremmo farla. Dovremmo separare l'umido delle nostre case dagli altri tipi di rifiuti. Ebbene, quell'umido che noi separiamo viene raccolto dai nostri mezzi, viene portato ad un impianto a Sant'Agata Bolognese, un impianto che trasforma 100.000 tonnellate di rifiuto umido organico raccolto nelle nostre case, più 35.000 tonnellate di sfalce e potature raccolti tutti nella provincia di Bologna e Modena in biogas. Quindi attraverso un processo naturale, fatto da batteri che ci mettono 21 giorni in un silos molto ampio, tutto pressurizzato in maniera tale che non ci siano odori, a trasformare questi 130.000 tonnellate di rifiuti in 7 milioni e mezzo di gas naturale, biometano, e in 20.000 tonnellate di compost. Cos'è il compost? È quel terriccio fertilizzante che poi viene usato in agricoltura, in floricoltura o anche nelle attività di giardinaggio e gestione degli orti. Il metano a quel punto tramite una filiera certificata viene portato ai distributori di metano, i distributori di metano rendono disponibile ovviamente questo biometano per fare rifornimento ai mezzi che vanno a metano. È formalmente identico allo stesso metano che viene estratto dalle fonti fossili ma è prodotto da fonti naturali. I bonus fiscali per la casa, questo è il titolo del convegno organizzato da Ape Confedilizia a Bologna. Cosa deve emergere da questo convegno di ruolo della politica sul tema fiscale? Lo ha sottolineato la Presidente di Ape Confedilizia di Bologna, Elisabetta Brunelli. A il microfono di Mario Giulianti. Allora, questo convegno è il secondo del 2019, noi facciamo cinque convegni, tutti in tema fiscale ed economico perché riteniamo che la proprietà sia ancora oggi il campo più vessato e conseguentemente il campo dove più si deve lavorare. C'è poca cultura economica e in particolare già si sta discutendo su eventuali patrimoniali, su quelli che possono essere aumenti di rendite catastali che noi ovviamente avversiamo perché la casa è sempre stata oggetto di vessazione ed è il primo e principale tributo non solo nazionale ovviamente ma anche locale. conseguentemente iniziamo con l'accessione del credito, stiamo però lavorando particolarmente con la Regione, in particolare anche con l'Accademia Nazionale dell'Agricoltura sul tema del ripristino e della rivalutazione del territorio proprio per cercare di snellire le procedure e implementare quello che è l'investimento immobiliare. Bologna tra l'altro nonostante tutto, nonostante gli amministratori locali riesce ad essere comunque prioritario dal punto di vista dell'allocazione delle risorse sia personali che per quanto riguarda in particolare anche le imprese. Abbiamo delle grossi investitori che stanno lavorando sul territorio però non ci dobbiamo dimenticare che i primi che devono essere tutelati sono i piccoli proprietari che sono i detentori del risparmio. Tutela, come ha sottolineato lei, però anche l'impegno da parte della politica. Sì, sarebbe sufficiente che la politica non facesse niente, saremmo già contenti così. È stata presentata questa mattina la 31esima edizione di Primaveranda, la festa di Budrio. Nel servizio le parole del sindaco di Budrio Maurizio Mazzanti e della vicepresidente di Ascom Conf Commercio Bologna, Alina Galatirando, che sottolinea tra le altre cose l'importanza dei commercianti di vicinato. Quest'anno per la 31esima edizione di Primaveranda abbiamo preparato tantissime iniziative, sono 99, veramente tanti di tutti i tipi, sull'ambiente. Primaveranda è la festa di primavera che apre un po' la stagione culturale associativa delle feste di Budrio e quindi veramente tanti incontri. Budrio è sempre di più un paese turistico, riusciamo ad attirare tante persone che vengono non solo dal paese, ma da fuori, da Bologna, dalla provincia e quindi da questo punto di vista siamo orgogliosi perché è una festa che ormai è diventata un simbolo ma non sta invecchiando, anzi sta ritrovando, riscoprendo una nuova giovinezza con tutte queste iniziative che avremo quest'anno. Budrio ha sempre avuto una vicinanza con la città di Bologna, è una città con un centro storico e un paese, con un centro storico con i portici, con tanti monumenti, chiese, palazzi, è un territorio circostante ricco di ville e di natura, un aspetto ambientale molto importante. Quindi sì, cerchiamo di portare a Budrio un po' di turisti che stanno invadendo in senso positivo naturalmente la città di Bologna e che già cominciamo a vedere in maniera spontanea Budrio. Allora stiamo cercando, insieme alla città di Bologna, a Bologna Welcome, alla destinazione turistica, insomma cerchiamo di mettere in rete una serie di relazioni che possono portare a Budrio in maniera strutturata dei turisti. ConfCommercio Ascom sostiene tutte le iniziative dei commercianti locali atte proprio a promuovere il commercio di vicinato. Primaveranda ne è un esempio bellissimo. E' raggiunta la 31esima edizione, coinvolge tutta la città, tutta la città di Budrio, tutta la comunità. Ecco, il ruolo del commercio di vicinato è essenziale per le città. Dobbiamo assolutamente ricordare il fatto che una vetrina aperta, illuminata, un negozio aperto in una città, rende la città più bella, più vivibile, ma soprattutto più sicura. Ecco, queste sono indicazioni che noi rivolgiamo alle istituzioni di ricordarselo e di promuovere, di aiutare e sostenere il commercio di vicinato, perché le città sono vive proprio grazie ai commercianti, al lavoro, al ruolo sociale che tutti i giorni svolgono sul territorio. E' ufficialmente iniziata ieri la quarta edizione del torneo internazionale di calcio giovanile We Love Football, organizzato da Marco De Marchi per gli Under 15, squadre internazionali che vengono da tutto il mondo. Ai nostri microfoni è intervenuto anche il presidente della regione Stefano Bonaccini, che ha sottolineato l'importanza internazionale di Bologna e dell'Emilia Romagna anche sul lato sportivo. Questa è una città Bologna che oggi la possiamo pienamente definire turistica ed era inimmaginabile fino a qualche anno fa. Una città ormai che è diventata un punto di riferimento per tante persone, non solo nel business, che lo è sempre stata, penso alle fiere internazionali, ma proprio dal punto di vista turistico. Mediamente si passava da Bologna per andare in Romagna o per andare in Appennino, adesso si viene a Bologna per vedere Bologna e noi stiamo puntando moltissimo sul turismo sportivo. Quest'anno saremo la regione che ha più eventi internazionali e nazionali dal punto di vista sportivo. Ci sarà il Giro d'Italia che parte tra pochi giorni qui da Bologna, 5 tappi in Emilia Romagna. Avremo a seguire dal 16 giugno sera il campionato europeo Under 21 di calcio con Italia-Spagna e addirittura tre stadi sulla via Emilia, Reggio Emilia, Bologna e Cesena che ospiteranno la fase finale a 12 squadre del campionato europeo Under 21. E poi questa manifestazione, io credo che a Marco, De Marchi e ai suoi collaboratori vada fatto un ringraziamento perché intanto porta squadre da tutto il mondo, maschile ma anche femminile, che è il movimento credo calcistico più in crescita ovunque. E poi soprattutto è l'idea che ci sta dietro, cioè l'idea che si scende in campo per vincere ma bisogna sempre ricordarci di rispettare le regole, l'amicizia, gli avversari e quindi credo che sia anche un bel messaggio in un mondo che non sempre si ricorda di avere una cultura sportiva di rispetto per gli altri. E continuiamo a parlare di sport. Ieri al Macron BFC Store è arrivato Rodrigo Palassio per incontrare i suoi tifosi, per fare foto e firmare autografi. Il nostro Mario Giulianto è andato e ha intervistato alcuni tifosi. Sentiamo. Siamo in fila per Rodrigo Palassio, parliamo intanto di Palassio, un giocatore che piace. Sì, sì, Palassio è sicuramente uno dei maggiori, dei più bravi giocatori del Bologna, diciamo così. Molto, veramente lui è fantastico e non sembra che abbia l'età che ha, sinceramente. Cioè, proprio, veramente è fantastico. Uno dei più importanti deve restare anche in dirigenza. Deve restare. Rinnova, rinnova, io dico che rinnova. Ci salviamo e rinnova. Io lo pago io lo stipendio, lo vado io con i soldi. Pur di farlo rimanere, grande giocatore. Forza Trenza! Assolutamente uno dei più importanti, insomma, nonostante i suoi 38 anni che quindi impediscono di essere forse sempre vispo, però ovviamente ripaga con l'esperienza. È fondamentale, non tanto per i gol a questo punto, non ha segnati tantissimi, però per il gioco, per la qualità, per il fatto che riesce sempre a subire fallo nelle posizioni del campo, molto critiche. Anche importante, anche durante la partita, serve per far ispirare la squadra. Giocatore di un'altra categoria, assolutamente. Certo, se non fosse lui, diverse partite non avevamo vinte. Sicuro. Per quanto riguarda il Bologna, che fa? Si salva? Ah, guarda, siamo sempre pensierosi, nel senso che anche i risultati ci stanno dando contro. Abbiamo due partite in casa fondamentali contro Sampdoria e Lempoli. Se vinciamo tutti e due siamo a buon punto. Almeno fare quattro punti in queste due partite, però è dura, è veramente dura. Si salva il Bologna? Ovviamente. No. No, dai, sì, sì. Sì, dai. Che partita sarà per voi contro quella con la Sampdoria? Partita rischiosissima, anche perché Lempoli è andata a vincere, è andata a pareggiare. A Bergamo, quindi, boh. La sconfitta no, eh. Per questo Bologna si salva? Io a inizio anno avrei detto di no, però col cambio di allenatore, la campagna acquisti di gennaio, adesso sono molto più fiducioso. Ovviamente lo Spartiacque sarà fra due sabati con Lempoli, assolutamente. Quello sarà davvero la slide indoor di questa stagione, dentro o fuori. Per quanto riguarda invece l'arrivo di Mijailovic, un arrivo importante, salverà questo Bologna? Io sono fiducioso. Se non c'era lui, era già in serie B, lo sappiamo tutti. Forse se veniva prima di Natale era meglio. Io mi auguro proprio di sì e sono fiduciosa. Ad inizio stagione pensavo si finisse così? Sì, perché la squadra non è stata costruita bene, infatti io spero che a fine anno, se ci salviamo, certi personaggi, io non vorrei più vederli a Bologna. Io spero che abbia imparato la lezione e che finalmente faccia quello che tutti ci aspettiamo da lui. No, perché comunque così tristi come nel giorno dell'andata era difficile. Soprattutto novembre abbiamo perso le partite in maniera imbarazzante. Veramente non me l'aspettavo, però viste le prime partite un po' l'ho visto che con Inzaghi proprio non si andava da nessuna parte. Per quanto riguarda l'anno prossimo c'è da cambiare qualcosa? Tutto, quasi. Especialmente nella parte alta, tranne il presidente, perché lui proprio è quello che ci mette veramente tanto. Innanzitutto la dirigenza, assolutamente, non sono io il primo a dirlo. La squadra si sta già muovendo in questa direzione, probabilmente arriverà Sabatini. Vedremo l'estate, ovviamente dipenderà tutto se il Bologna si salverà o meno. A quel punto lì, secondo me, con gli acquisti dei giocatori che saranno obbligati, quindi Sansone, Soriano, insomma, visto che abbiamo diritto di riscatto, un paio di altri innesti senza stravolgere troppo la rosa, secondo me saranno sufficienti. E forse anche un buon allenatore in panchina, vedremo se Gnalovic riuscirà a resistere, altrimenti un altro allenatore. Comunque direi di sì. Guardando al futuro c'è qualcosa da cambiare? Sì. Cioè, se non prendi dei giocatori come adesso abbiamo, che davanti ti facciano 4-5 passaggi, da quando si è Soriano almeno si vede 5-6 passaggi di fila. Cioè, prima, cioè, 0 proprio. Cioè, era una... lo sappiamo, era veramente duro vedere il Bologna. Adesso almeno si perde qualche volta, si è perso qualche volta, ma si diverte. Poi si spera sempre di vincere. Ancora a Bologna, penultimo allenamento oggi, prima di Bologna a Sampdoria e alla seduta tattica di questo pomeriggio, hanno partecipato regolarmente sia Mattia Destro che Federico Mattiello, che sono quindi rientrati in gruppo regolarmente. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. A tutti quanti voi, una buona serata e un grazie anche al regista, Andrea Alfano.